Ciao a tutti, bentornati qui su Quinta Dimensione Letture. Vediamo allora questa persona a cui pensi, quindi ti invito a pensare a qualcuno che tiene il cuore. Qui parliamo di amore, non altri tipi di rapporti. Parliamo di amore e vediamo un po' com'è la situazione, se eventualmente c'è qualcuno tra di voi che è lontano, vediamo anche se c'è una intenzione di ritornare. Quindi vediamo un po' che cosa ci dice qua? Ah beh qua c'è qualcuno in silenzio, qui qualcuno non si sente più, qualcuno che è sparito, qui c'è silenzio, questa è la carta proprio dei rapporti che in questo momento non sono diciamo in essere, quindi molti che stanno ascoltando saranno sicuramente lontani, vediamo ancora. Qua c'è molta nostalgia, qui manca qualcuno, vi manca, ma voi mancate anche alla persona, assolutamente c'è una nostalgia del passato, di quello che era tra di voi. Vediamo un po' ancora altre carte e vediamo ancora. Beh qua ci sono stati degli ostacoli che in realtà potevano essere superati però, qui ci sono delle situazioni che sono state forse sopravvalutate, magari se ne poteva venire fuori con meno diciamo angoscia, potevano essere superati, vediamo un po' e qua c'è una scelta, qua ci sarà una scelta da fare, in questo momento le carte non ci parlano di un ritorno, però le cose andranno ben valutate, c'è qualcuno che aspetta o tu che ascolti o la persona, qui si sta ancora un po' ad aspettare, però non vedo carte così drastiche per dirti magari, qui si potrebbe anche volendo con un po' di buona volontà recuperare. Per il momento ti saluto e ti ringrazio, ciao e seguimi.